Bene, Masini Gabriele, Renza Club Riccione Artico, insomma tu sei sempre un grande protagonista qui a Ostellato anche adesso abbiamo visto, hai preso un bel carassione, insomma svelaci i segreti di questa bella pescata Ma un grande carassione ci vuole un grande lombricone Quindi oggi ci dai soprattutto a Vermi, Caster Il classico bullet feeder da 40 grammi e un pizzico di fortuna non guasta mai Questo bellissimo canale con tantissima bella gente, speriamo di continuare così fino a fine gara Bene, sei parte integrante di un team che quest'anno ha dato filo da torcere un po' a tutti su tutti i campi di gara Insomma Renza Club Riccione, partite in sordina e poi ha esplosito le sue cartucce più importanti alla fine Sì, quest'anno siamo partiti un po' malino sul Brian perché siamo partiti con 3-9 e un 6 quindi 33 punti erano pesanti in inizio del campionato, siamo partiti piuttosto male Eravamo un po' depressi, un po' delusi ma subito dopo ci siamo ripresi forte perché sul Lamma vinciamo la prova e poi c'è stata una bellissima gara a Ostellato alle Vallette dove ci siamo piazzati i quinti di giornata e lì siamo passati ufficialmente nel CIS Poi è stato il gran podio finale E poi c'è stata una battaglia fino al sabato sera con la Lenza Emigliana che se non sbaglio era a 91 punti e noi eravamo a 90 e la domenica mattina li avevamo battuti, siamo arrivati terzi sul podio È stata una rimonta penso storica perché che io ricordi una cosa del genere da 38esimi arrivare terzi è stata veramente un'annata stupenda, bellissima I ragazzi sono stati fantastici, un gruppo bellissimo e cosa dire, grazie a tutti E soprattutto idee chiare come stamattina perché vedo che hai aperto solo due canne vuol dire che le idee sono molto chiare Sì, poche cose fatte bene, è molto importante avere idee chiare perché sai le pesche sono tante e è molto molto facile sbagliare, molto facile Bene, Magini Gabriele guardatelo bene perché quando ce l'avete nel settore vi darà del filo da torcere Grazie mille a voi, grazie a tutti